ciao a tutti raga allora oggi sono qui con un nuovo video di zuiki allora chi non lo conoscesse zuiki vende di tutto e io sono andata ai petali di reggio chi non lo conoscesse si trova a reggio emilia dove sono io dove abito io allora adesso vi faccio vedere cosa ho comprato delle cose molto carine che secondo me vale la pena comprare allora la busta pesa qui allora mi hanno dato questa busta perché ho comprato raga questi bellissimi stivali stivali numero 39 preferisco sempre più larghi con questi pompon molto carini rosa io raga comunque vi dico che ce li avevo già però mi si sono fatti mi si sono rovinati allora come ho visto che comunque c'erano simili e comunque secondo me anche più carini l'ho presi perché i miei passati non avevano i pomponi questi invece il pompon tipo mi viene in mente la neve la neve li mettete sulla neve bellissimi cioè io adoro adoro tutto quello che che c'è nell'inverno che quello che c'è durante il periodo natalizio raga bellissimo scrivetevi nei commenti se anche a voi piace questo natale dove andrete cosa farete raccontatemi un po allora questo qua pagati 15 euro guardate c'è il cartellino vi faccio vedere qui 15 euro e sono bellissimi allora questi qua mettiamo qua poi ho preso perché io vado pazza se l'avete capito comunque dentro i miei video c'è sempre qualche cavolatina io vado vado pazza per le cose le cosettine da mettere addosso braccialetti anelli orecchini allora vi faccio vedere questi questo paia di orecchini in acciaio con le sue borsettine le volevo prendere di un altro colore ma c'erano solo gialle allora ho detto va bene prendo lo stesso sono tanto carine guardate le più belle beh ipoteticamente posso metterle cioè si gireranno e comunque ci sarà il colore così guardate così sarà così e vabbè comunque sono gialle date le borse gialle i cuori immancabili raga d'acciaio pagati 5 euro poi ho preso una cosina molto carina che mi ha lasciato veramente ho detto no no cioè non è niente di che niente di anormale niente di diverso da quello che ho preso anche altre volte però comunque è molto carino questo braccialettino che potevate comporre voi allora il braccialettino viene 3 euro d'acciaio guardate poi potevate aggiungere voi il charm io ho scelto il charm che venivano 3 euro l'uno io ho scelto il cuore questo guardate che bello il cuore e poi la luna due cose che mi rappresentano il cuore e la luna con questo brillantino bellissimo guardate ed è fatto così non vedo l'ora di indossarlo non l'ho messo perché preferivo fare il video farvelo vedere così prima e condividerlo prima con voi comunque in giù è venuto 3 euro il braccialetto venuto 9 euro perché ho scelto 2 charm con il suo braccialettino poi raga immancabili 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 le mascherine io le prendo sempre da zuiki perché mi si trovo tantissimo a me è capitato raga prendere alcune mascherine che mi coprivano tutta la visuale mi veniva il nervoso e l'ansia allora io vado sempre in cerca alla ricerca di altre mascherine mi sono imbattute in queste le ho conosciute e non le ho più lasciate perché mi si trovo da dio e veramente sono molto confortevoli e non costano neanche tanto guardate 2 euro e ne escono 10 guardate si mascherina chirurgica ma non uso si vi dico che non si è scritto ma ne escono 10 perché le ho prese e strapese già quindi so già quante ne possano uscire come sono fatte sono leggerissime e sembrano anche di cioè sembra di non averle su raga il video finisce qui se vi è piaciuto lasciato un like ditemi nei commenti se vi sono piaciuti i stivali o cosa vi sia piaciuto di più e lo sapete che il vostro commento per me è importante e se vi è piaciuto questo video lasciato un like e iscrivetevi al canale se non siete iscritti attivate la campanella se vi fa piacere e ricevere sempre le notifiche dei miei video e raga noi ci vediamo alla prossima ciao 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 ciao